Se avete delle vecchie foto in bianco e nero, magari sfocate o graffiate, e volete restaurarle o addirittura colorarle, potete farlo direttamente online. Il tutto quindi senza installare nulla né sul vostro computer né sul vostro cellulare. Eccovi in questo video alcune potenti soluzioni online che fanno tutto da sole. Di ogni software vi lascio il link in descrizione. Il primo prodotto si chiama Neural.love e può restaurare vecchie foto, vecchi filmati, o addirittura generare immagini originali partendo da un testo, utilizzando l'intelligenza artificiale. Come esempio utilizzeremo sempre questa immagine di partenza, in modo da poter fare dei confronti oggettivi. Con Neural.love, il risultato del miglioramento dopo alcuni minuti di elaborazione è questo qui. Non ho resistito e mi sono fatto creare un'immagine di fantasia dall'intelligenza artificiale. Gli ho dato come soggetto il Colosseo su Marte con George Clooney che si fa un selfie. Come risultato mi ha restituito quattro immagini veramente divertenti. Il secondo sito si chiama fotorestoration.ai, che ha come limite la risoluzione di 1200x1200 pixel al massimo per le foto da caricare. Le foto che cedono queste dimensioni vengono automaticamente ridimensionate. Il risultato non è eccezionale, e anche questo sito riesce a colorare le foto in bianco e nero. Sinceramente Neural.love è il migliore tra i due per adesso. Il terzo e ultimo sito di questa presentazione è jpeghd.com. Anche questo sito riesce a recuperare e a migliorare le vecchie foto colorandole. Il risultato è eccellente, il migliore dei tre siti proposti secondo me. La particolarità di questo sito è che non solo riesce a recuperare le vecchie foto, ma può anche animarle. Questa funzione però è a pagamento. Guardate la foto di Abramo Lincoln. Io trovo questo effetto un po' inquietante e non mi piace molto. Bene, se vi è piaciuto il video, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale.